Cerchi un'idea per la cena? Prepara la crostata con cavolo nero e brì. In un recipiente raccogli la farina col sale, il pepe e l'olio. Mescola e poi aggiungi un po' alla volta l'acqua, impastando fino a ottenere un composto morbido e che non si appiccica le mani. Coprilo con la pellicola e fa riposare circa 30 minuti. Pulisci il cavolo nero, fallo bollire in acqua bollente per 5 minuti e poi raffreddalo in una scodella con acqua fredda. Strizzalo e taglialo un pochino sul tavolo da lavoro. Raccoglilo assieme alla ricotta, il pepe, il sale e il brì tagliato a cubetti, un po' di panna o se preferisci latte. Mescola e tieni da parte. Stendi la pasta a brise e rivesti uno stampo da crostata, rettangolare oppure tondo, bucherella al fondo e quindi versa tutto il composto. Con l'impasto avanzato prepara delle piccole decorazioni, poi cuoci in forno statico a 180 gradi per circa 30 minuti.